Il 4 marzo 1980. A El Salvador, nel Centro America, il viscovo Oscar Romero viene ucciso con un colpo di fucile mentre celebra la missa. È un omicidio che fa scalpore. L'arciviscovo è famoso nel mondo come paladino della pace e della giustizia in un paese, come El Salvador, duramente represso dalle ricche oligarchie e dalla dittatura militare. Nella sua ultima omelia, come sempre, Romero elenca le persone sparite durante la settimana, studenti e contadini portati via da uomini senza divisa ma con scarpe militari verso una destinazione ignota. E per chi ha ordinato la sua morte, proprio questa è la sua colpa, aver rotto il silenzio. Le sue denunce contro la violenza, le torture, le uccisioni, le sparizioni, il suo frequentare i poveri e i diseredati, le sue scarpe sempre impolverate, il suo stare dalla parte di chi muore di fame, tutto ha fatto di lui un prete scopo. Gli sparano mentre dice messa. E oggi Monsignor Oscar Romero è un martire per la chiesa e un santo non ufficiale per tutti i poveri dell'America Latina. A loro aveva promesso, se vengo ucciso risorgerò nel mio popolo.